Giorgio Cia, difensore centrale del Vasso Giardi, oggi non hai giocato, però hai visto la partita alla panchina. Un giudizio sulla partita? È purtroppo una partita sfortunata, l'abbiamo vista, abbiamo giocato, abbiamo avuto le nostre occasioni, poi doppio palo, abbiamo giocato anche contro la sfortuna. Non ci siamo espressi al meglio, sicuramente. Comunque, onore a Riccia che ha ottenuto il massimo risultato. Su cosa si dovrà lavorare in settimana? Ma questo ne parleremo sicuramente negli spogliatoi, comunque, no, un po' di tutto. Poi martedì analizzeremo bene la partita, a caldo è sempre meglio stare zitti e testa a basso. Speriamo che può capitare, sicuramente il campionato è ancora lungo, l'importante è che questa partita non abbia strascichi per il futuro. Noi dobbiamo lottare e ripartire già da sabato a LIFE.